nel secondo tempo sono entrati paredes pogba milic e danilo 11 più 4 15 15 cadaveri più un becchino oggi attenuanti zero per nessuno zero per nessuno abbiamo perso con un inter normalissima vi dirò di più questi hanno giocato meglio in campionato quando hanno perso questi hanno giocato meglio in campionato quando hanno perso che stasera siamo noi che siamo veramente inesistenti una squadra veramente una squadra veramente non so non so più come definirla questa squadra non so più come definirla questa squadra aprile terribile terribile questa aprile terribile vergognoso vergognosi oggi nessun attenuante nessuna scusa oggi nessun alibi pietosi tutti 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 veramente tutti pietosi uno schifo di partita uno schifo di partita incapaci sbattevano fra loro non controllavano palla non non azzeccavano un passaggio niente niente io non ho mai visto una squadra così scarsa una juve così scarsa io non me la ricordo veramente neanche gli anni di del neri e ferrare una juve così scarsa non me la non me la ricordo mamma mia mamma mia me l'aspettavo e purtroppo me l'aspettavo quella atola che mister oggi sei indifendibile che è quella cazzo di formazione che hai messo nel primo tempo che o sei quella oddio no che chissà cosa sia cambiato nel secondo tempo ma questi giocano non so come giocano mentalmente sono in vacanza non lo so non gli frega niente della coppa italia non gli frega più niente di questa squadra non lo so davvero non lo so pessimi tutti veramente poco da dire hanno meritato per quel poco che hanno fatto hanno meritato migliore in campo per in ma non per chissà cosa per un'unica parata migliore in campo della juve per in gli altri uno schifo totale tutti 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 davvero tutti davvero tutti oramai questi hanno la testa altrove non non ci sono cazzi hanno la tutti è allenatore compreso che sembra parlare da solo io parlo il cazzo che mi sente quell'altro bonucci si lamenta pure quando esce dai mi spiace caro mister oggi sei indifendibile per la squadra che hai messo in campo poi non so che cazzo gli passi a questi a questi per il cervello oggi sei indifendibile caro mister oggi sei indifendibile io cerco di analizzare ma qui questi oramai sono scarichi questi sono scarichi questi diciamo diciamo chiaramente questi oramai hanno due partite questa mente queste all'interesse a solo due partite le due con siviglia e l'eventuale finale se ci arrivi se ci arrivi perché così se giochi così così con siviglia per gli schiaffoni tutte le due partite è schifo che schifo non salvo nessuno non salvo nessuno 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 giustamente io non vorrei parlare dei singoli io non parlo dei singoli perché ci parlerò delle pagelle che può darsi che farò già più tardi perché oggi veramente ne ho per tutti ne ho per tutti ne ho per tutti ho detto 15 cadaveri e un becchino veramente oggi 15 cadaveri e un becchino non se ne può più non li posso oramai è diventato non so cosa non so cosa è diventato guardare le partite di questi qua veramente sono a dir poco schifato schifato questi hanno giocato molto meglio all'andata che oggi l'inter ha giocato molto ma se è bastato un inter appena sufficiente per non riuscire a fare un cazzo di tiro in porta e fratelli miei non non so non so come la pensiate non so come la pensiate a questo punto si dia spazio i ragazzi in campionato tanto tanto oramai è andata come è andata si dia spazio i ragazzi si tenga i titolari per le due partite col Siviglia e basta basta oramai veramente mi sono veramente rotto il cazzo a vedervi giocare mi sono veramente rotto il cazzo a vedervi giocare schifato sono schifato a guardarvi non so ma una posazione una posizione una prestazione positiva non la vedo non la vedo niente non la vedo non la vedo non la vedo una prestazione positiva non c'è manco ma neanche a scala so ha tolto per in che ha fatto quella gran parata tolto per in non vedo uno che ha giocato su che ha guidare la sufficienza oggi non ne vedo mezzo non ne vedo mezzo ma veramente io non so con quale pazienza la gente viene ancora allo stadio non so veramente con quale pazienza la gente viene ancora allo stadio che brutta caduta che brutta che brutta fine 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 davvero che brutta fine avete fatto che brutta fine ha fatto la mia squadra oggi purtroppo e non sto certo salvando il mister oggi oggi purtroppo vengono a galla tutte le mie previsioni tutte le mie previsioni com'era quello di Dalla Bobo TV com'era guardate la panchina della Juve potrebbe giocare una semifinale di Champions League ma quale semifinale che non stanno in piedi ma quale semifinale Adani ma che cazzo oramai l'hai fatta la carriera hai ottenuto di fare il come cazzo si chiama il testimonial per i bei basta basta di le cazzate questi non stanno in piedi questi sono giocatori con un grande futuro dietro parlatemi di come ha giocato il signor Fideo abbiamo giocato con uno in meno non che gli altri abbiano fatto chissà che abbiamo giocato con uno in meno chiesa poi completamente inconcludente a centro campo a Gherabio in calo Miretti si muove ma niente Locatelli disastroso niente uno schifo e basta uno schifo e basta veramente due o tre saranno le sufficienze poi vi avviso due o tre non di più anzi nemmeno veramente schifato non ho parole non ho parole chiudiamola qui che è meglio più tardi a freddo faccio un video e basta grazie a tutti grazie a tutti